Grazie e buongiorno a tutti. Allora, è già stato detto moltissimo sul tema del Trust e Customer First, quindi volevo partire da come non si fa. Cioè, abbiamo avuto esempi eccellenti di come si fa e di come non si fa. E fortunatamente, di qua, di là, ecco, fortunatamente, dico fortunatamente con ironia, Volkswagen, diciamo, l'ha commiatta grossa in questi giorni. Ed è riuscita in un colpo solo a tradire il valore della fiducia e il valore del Customer First. Quasi sapesse che c'era il Thinking Hub di Fastweb. Quindi, vuol dire, l'ha fatta tempestivamente per il nostro intervento. La domanda interessante è perché un'azienda così importante, se pensiamo anche al rapporto del valore, diciamo, alle vendite diesel nel mercato americano del 2000 incriminato, valgono l'1% del fatturato. Quindi per mantenere quel 1%, per incrementarlo, ha dimezzato il valore patrimoniale in borsa. Per fare questo però torno un attimo indietro, perché Volkswagen è un'azienda dove in questi giorni si è parlato di tradimento. Tanto, si è parlato di tradimento. Ed è un tema forte, perché il tradimento è un termine che si utilizza in ambito affettivo. Però è anche vero che parliamo di valori e i valori sono assoluti. Ed è anche vero che le parole più nominate dei relatori che mi hanno preceduto erano termini affettivi. La parola amore, innamoramento, passione, sono parole che abbiamo sentito più volte da più testimonianze. Questo perché in un mondo che cambia sempre più velocemente, a velocità fotonica, che costringe l'azienda, anzi, dove c'è anche proprio difficoltà per vedere dove si andrà, e quindi si è costretti a rivedere le strategie frequentemente, le pianificazioni, a riorganizzarsi in continuazione, in questo cambiamento totale, quello che rimane fermo è proprio l'asset valoriale. Cioè i valori sono l'elemento ormai dove l'azienda trova conforto e quindi diventa un po' l'elemento da cui si declina la filosofia, l'etica e i comportamenti. E per questo quando parliamo di valori si parla di valori assoluti. Allora, torno indietro di qualche anno, di quattro anni, quando Volkswagen lanciò la nuova pass in America, decise di fare uno spot durante il Super Bowl, perché è il momento in cui il Super Bowl è la trasmissione televisiva più vista nei Stati Uniti, per quel momento in cui è tutta una grande festa e anche gli spot vengono lanciati come prima per lancio. Questo spot fece poi su YouTube più di 60 milioni di visualizzazioni, ancora adesso è uno degli spot più visti in termini assoluti. E comunicava così. E comunicava così. E comunicava così. E' un spot molto carino, si può capire perché è stato cliccato. Molto molto interessante da parte del marketing, perché il target sarebbe il papà, però tutto sommato è anche il bambino, perché Star Wars uscì nel 77, per cui io che sono cresciuto con Star Wars, quando sono uscito dal cinema anche io cercavo di muovere. Per cui il target è questa doppia lettura, si vede come specchio del padre che arriva a casa, che lavora molto, ma anche come si ritorna bambino. E qua è interessante perché non c'è una focalizzazione sul prodotto nuovo, la macchina si vede pochissimo, l'automobile, non c'è nessun cenno sulle prestazioni, sulla sicurezza, sulle caratteristiche tecniche, sul design, nulla. 14 milioni di dollari è stato l'investimento per fare questo spot e acquisire gli spazi pubblicitari. Però quello che emerge è un valore, quello che promette la Passat e dice tu sei molto impegnato, per cui vedi poco tuo figlio, arrivi a casa e tuo figlio tutto il giorno che cerca di smuovere gli oggetti, tu col telecomando della Passat realisi i suoi sogni. Cosa sono 20 mila dollari, 30 mila dollari per realizzare i sogni di tuo figlio? Subito, dove si firma e prendi. Quindi qua c'è una conoscenza verso il cliente, un'attenzione al cliente, ai valori familiari che sono apparentemente lontani dal mondo dell'automobile. Ora, un'azienda che comunicava così bene tradisce il valore verso il cliente. Perché questo? Perché parlare di customer first, mi piace molto, che tra l'altro è il primo valore che mettete nella lista dei valori, nell'ordine, è nulla per caso, come dice Yoda, per cui se l'avete messo per primo è il più importante. Qua non stiamo parlando di orientamento al cliente, non stiamo facendo i soliti discorsi, il cliente è al centro dell'attenzione, se dietro un licenziamento c'è un cliente non contento, chi paga lo stipendio e il cliente. No, parliamo di un valore, un valore assoluto, customer first. Il cliente è prima, il cliente è prima di tutto, il cliente è prima appunto. E questo mi serve per spiegare, secondo me, cosa è successo in Volkswagen. Che il cliente dovrebbe essere prima di tutto, e tutto il nostro lavoro dovrebbe essere centrato sul cliente. Però di fatto, per questioni organizzative, noi dobbiamo misurare la nostra attività. Per cui l'azienda misura l'attività attraverso il fatturato, i margini, le trimestrali. I dipartimenti organizzativi hanno il loro budget, hanno i loro progetti da fare, in tempi veloci, quasi sempre impossibili. Lavoriamo in situazioni di sottodimensionamento, per cui dobbiamo correre. E l'individuo all'interno dell'organizzazione deve fare i conti con la propria attività, i propri compiti assegnati, i propri obiettivi personali, l'equilibrio tra la vita privata e la vita professionale. Tutte queste attività, non c'è la parola cliente. Non c'è la parola cliente. Cioè il rischio, che è quello che secondo me è capitato in Volkswagen, e poi è capitato molte altre volte, è che ci sia questa logica bipolare. Da un lato il cliente è al centro di attenzione, però dall'altra parte noi misuriamo tutto attraverso elementi, che sono il denaro, i risultati, le operazioni, che non sono più il cliente. E quindi il cliente rischia di diventare un mezzo per raggiungere il proprio obiettivo, non il fine di cui gli strumenti sono il mezzo. E questa è una distorsione che capita. Adesso, qua avevo fatto sull'attenzione del cliente il tema... Ah no, qua mi è ripetito tutto. Ma qua, al di là di fare attenzione al cliente, questo era sull'orientamento, perché qua se si legge la campagna, se si legge l'altavoce, si intuisce l'errore, la comicità involontaria della fan cool, un'auto così non l'ha impresso nessuno. Ecco, per dire, come delle volte, diciamo, le parole sono solo... Però, a parte questo, questo, qua ho messo dei disastri epocali, cose veramente che ci hanno sorpreso e inaspettato. Ma, se noi pensiamo, vuol dire, per proteggere l'1% di fatturato in America, hai messo il cliente non a primo posto, per risparmiare carne di cavallo nelle lasagne alla bolognese. Le banche, quando hanno proposto i derivati Parmalat, non avevano il cliente first. C'è Guido Barilla, si è scusato, con le comunità omosessuali, ma si è scusato perché? Perché ha perso il 5% del fatturato la settimana successiva, la telefonata alla zanzara, negli Stati Uniti. E Schittino, chi dice perché c'era una ritualità dell'inchino, chi dice che voleva compiacere la ragazza che è lì, tutto meno che tenere in mente il cliente. Allora, quando noi siamo di fronte a un valore, è un valore che, per definizione, perché è un valore, è assoluto, dovrebbe diventare un mantra in azienda. Quindi, questo vuol dire che nel momento in cui noi facciamo qualunque attività lavorativa, in teoria dovremmo porci il tema customer first. Deve diventare un mantra, un totem. Faccio una riunione di lavoro, è customer first? Cioè, stiamo lavorando prima di tutto con il cliente per il cliente? No? E questo è il tema. Che noi rischiamo talvolta, il rischio, è di far diventare il cliente un mezzo ai nostri risultati organizzativi. E questo è un tema sul cliente. Volevo poi parlare di fiducia. Fiducia e cliente, poi parleremo insieme. Perché qua si parla di tradimento della fiducia. Cioè, per capire come funziona la fiducia in azienda bisogna lavorare su quattro dimensioni che volevo spiegare attraverso quattro aforismi. Il primo, di Nice, e questo vale per tutti i valori, in modo particolare per la fiducia. Però mi fermo un attimo, perché qua abbiamo parlato tantissimo di fiducia. Se il tema del cliente è chiaro, la fiducia è sempre un po' difficile da definire. Per cui, prima di tutto, vorrei dare una definizione che funzioni in azienda del termine fiducia. Chi è che mi dà una definizione di fiducia così? Paff, cash and carry? Credere in qualcosa. Credere in qualcosa. Benissimo, credere in qualcosa. E come faccio a credere in qualcosa? Coerenza tra ciò che si dice e ciò che si fa. Ecco, questa è la fiducia. La fiducia, io mi fido di una persona se ho un buon grado di sicurezza che quello che dice cercherà di fare. Questo è il tema della fiducia. Io credo in una persona, se sono tranquillo, che quello che mi dice o che farà, farà. Semplice. È semplice. Però la sua semplicità è fondamentale. Perché? Prima cosa, è un tema sul quale, come tutti i valori, in modo particolare la fiducia, bisogna essere integri e coerenti. Perché? Perché se io manco di fiducia, se la persona che mi affida la sua fiducia, per cui si aspetta da me un comportamento che ho promesso, e non mantengo quell'impegno, non va a zero, ma va sotto zero. Volkswagen è un esempio eclatante, perché, ora, se ragioniamo in termini un po' cinici, non è che tu compri una macchina che è Euro 6, e poi invece è Euro 4. Non è che fai un disastro planetario. Non è che, non è, non parliamo di un impatto ambientale tipo la British Petroleum, no? È una roba che, dal punto di vista... Però, è stato vissuto come un tradimento. Perché? Perché Volkswagen si è preso il valore dell'onestà, la correttezza, il seguire le regole, che è un valore culturale dei tedeschi. Quindi dice, loro ti dicono, noi siamo questa cosa perché, in quanto tedeschi, noi siamo, seguiamo le regole, siamo ordinati, eccetera. Nel momento in cui questo valore viene tradito, il meccanismo funziona anche al contrario, per cui adesso tutti i tedeschi, no? Addirittura, no? Non ci si fida più di tutti i tedeschi. Allora la Merkel, no? Così, questo discorso... La Volkswagen è allora la Merkel. Vabbè, ho capito, no? Cosa c'entra? È vero, un po' lo Stato è... Però la Merkel sapeva, no? Perché è veramente pazzesco il livello di informazione come questi valori vengono poi traslati nelle varie situazioni. Però non è che adesso Volkswagen ha fatto questa cosa qua, ti ha messo un software a tua insaputa, troccava le emissioni, adesso noi, vabbè, gliela perdoniamo. No, la fiducia è sotto zero. Adesso qualunque cosa dice, uno non ci crede più. Questo è un tema importante che vuol dire, che ci insegna che in azienda soprattutto, dove conviviamo con i colleghi quotidianamente cinque giorni alla settimana per otto ore al giorno, se va bene, c'è un rapporto, diciamo, costante. Il tema della fiducia è fondamentale, perché se noi tradiamo la fiducia, non andiamo a aziende, ma sotto zero. Sotto zero. Quindi integrità e coerenza. Secondo, non siamo ciò che diciamo, siamo il credito che ci danno. Un tema fondamentale sulla fiducia è l'autorevolezza. Le parole non hanno tutto lo stesso peso, ma dipendono il peso, e qui dipende da chi ci dice quella cosa. Il tema dell'autorevolezza è fondamentale. Mi sono chiesto, quando io sono salito sul palco, mi avete applaudito? Allora, mi avete applaudito perché mi conoscevate? No. Se mi avete applaudito prima, l'applauso dopo uno lo capisce, è sincero, no? E la cartina torna sola e sei fatto bene. Ma l'applauso prima? È un applauso dato sulla fiducia. Quindi voi dici, io conosco Rossi, conosco Giampaolo Rossi, ho letto le sue cose, ho visto gli internet, eccetera, io l'applauso perché so che è bravo. Allora è un discorso di fiducia. Oppure, può essere un atto di fede. E mi fido di Rossi a prescindere, perché non c'entra con la fiducia, è un atto di fede. Oppure, è un elemento rituale. Applaudiamo tutti gli ospiti prima che salgono. Quindi diventa un meccanismo rituale che non ha niente a che fare con me. Chiunque sale qua sul palco, anche uno in ciampa, e tutti lo applaudono perché si applaude chi sale sul palco. oppure, può essere il fatto che, visto che mi hanno presentato, o visto perché sono, di fatto sono stato scelto per parlare su questi temi, divento autorevole. L'autorevolezza è un indice legato alla fiducia. Noi dobbiamo avere la consapevolezza, se siamo in un ambiente nuovo, di quanto siamo credibili per dire quello che faremo. perché se non abbiamo il giusto grado di autorevolezza, possiamo essere bravi a parole, ma se non siamo conosciuti, non siamo referenziati, vuol dire che stiamo chiedendo un atto di fede e non di fiducia. Per cui è importante, in un team di lavoro nuovo, un'organizzazione nuovo, un mercato nuovo, avere un metro della propria autorevolezza per quanto riguarda l'affidabilità e la fiducia. Terzo punto, molto importante sul tema della fiducia, è che la fiducia è una strada a due vie. Quindi si basa sulla relazione. Io per dare fiducia, per ottenere fiducia, devo dare fiducia e viceversa. Punto. E questo è importante. Prego. Allora, il discorso è questo, che poi hai anticipato il mio quarto aforisma, per cui ti chiedo di tenere questa affermazione in canna per due minuti, poi la sfarò subito, la sfarò subito. Però volevo fermarmi un attimo sulla relazione, perché è un tema importante di cui se ne è parlato molto qua, di clienti interno, Pupi Avati, ci ha parlato di relazioni, relazioni con i genitori, si è parlato molto di relazione. La relazione in azienda è un asset. Io cito sempre questo consulente americano di cui non mi ricordo il nome, un giorno me la farà scontare questa cosa, perché lo cito senza citarlo, che diceva, quando uno va in un'azienda moderna, un'azienda occidentale, va dove c'è il valore di quell'azienda, alla fine quello che vede sono persone e computer, cioè le persone che lavorano a computer. Le produzioni sono delocalizzate e, diciamo, il valore si fa negli uffici. Se poi è una società di servizi, come la vostra, ci sono solo persone e computer. Quindi questo vuol dire che in un'azienda moderna il valore sta nelle persone e nelle macchine, quindi sta nella persona, quindi nella conoscenza, nella competenza e nella tecnologia. Però queste, competenza, conoscenza e tecnologia, sono tutte acquisibili sul mercato. E se fosse solo così, vorrebbe dire che chiunque, possedendo il denaro, può comprare e fare l'azienda più bella del mondo. ma come il calcio e lo sport non è così, non basta avere i giocatori più belli del mondo per vincere i campionati. È la capacità di mettere questi fattori in sistema e di metterli in relazione che fa la differenza. È la qualità delle relazioni all'interno dell'organizzazione che fa la differenza, come nel rugby. Allora, investire in qualità della relazione è fondamentale e non esiste una collaborazione senza la fiducia. Punto. Il rugby ce l'ha spiegato benissimo, ma anche in organizzazione. Non può esistere un gruppo di persone che lavorano insieme per un obiettivo comune senza la fiducia. Non ci può essere. Non può esistere. È solo la somma di individui che stanno facendo delle cose. Quando faccio i corsi di team building, chiedo qual è la cosa più importante nel lavorare in gruppo? L'obiettivo comune. Invece, ad esempio, l'obiettivo comune è stato superato dal punto di vista teorico perché basta che tu hai ingaggiato le persone che ti servono sufficienti per portare avanti il progetto. Gli altri si arriveranno in corsa perché magari non l'hanno capito subito. Invece, quello che serve è fiducia. È bello l'esempio del rugby che usa un team building aziendale. Noi usiamo lo sport e per fare team building usano un team building tipo aziendale, gli fanno fare organizzare le cose. Perché è tutto centrato nella costruzione della fiducia, che è un meccanismo di relazione e di scambio. La fiducia in unica direzione non funziona. Datemi fiducia è una frase che lascia il tempo che trova. Non funziona. Datemi fiducia. Arrivo. Questa è una frase di Woody Allen con un grandissimo filosofo e conoscitore di impresa. Questo per dire che alla fine alla fine a parole sono tutti bravi. Quello che conta è quello che succede. Per cui la quarta dimensione della fiducia è legata al comportamento. Le persone misurano quello che fai in funzione di quello che dici. Non solo quello che dici. per cui io posso creare un meccanismo di fiducia day by day quotidianamente mattoncino su mattoncino promettendo e facendo. Promettendo e facendo. Promettendo e facendo. E ti chiedo di promettere di fare promettere di fare quando alla fine tu mi hai dimostrato che quello che prometti fai io ti ho dimostrato e quello che faccio allora siamo in un clima di fiducia. Allora posso dormire tranquillo. Questo è. E per dimostrare questo chiudo con un altro spot pubblicitario citando la Coca-Cola che condivido e comunica in maniera pazzesca. E Coca-Cola in questi ultimi anni è entrata in difficoltà perché si è messa sulle spalle la felicità. Cioè si compra Coca-Cola perché ti porta in un mondo felice. È Babbo Natale e la pizza con gli amici e da quando siamo piccolini puoi bere la Coca-Cola solo alle feste. Quindi Coca-Cola legato la propria immagine alla felicità. È una cosa pazzesca per un prodotto fatto di acqua zucchero coloranti schifezze varie. È una roba pazzesca. Pazzesca. Si sono impadroniti della felicità. Certo però nei momenti di crisi è difficile, no? È difficile nel momento di crisi dove la gente fa fatica si incattivisce che anche a Natale non sono più tanto più buoni. una volta sotto Natale tu guidavi la macchina e nessuno si arrabbiava, no? Ti tagliava la strada prego! Adesso anche sotto Natale è pericolosissimo. E faccio Barilla. A chi è che piace la pubblicità di Barilla di Banderas? Nessuno. Zero per cento. Questa è una domanda che faccio spesso e ogni tanto qualcuno alza la mano per essere divergente come dice Puppi Avati, no? Però non piace nessuno. Lo slogan, il claim del mulino bianco di Barilla è un mondo buono, no? Tu vedi Banderas che gioca con la gallina, no? Con il ragazzino. Cioè, la più bella è quella che preferisco quando gioca a tre carte con la gallina e perde. Mica di corca misera. Non è che giochi con un delfino, no? Con la gallina e perdi, porca mia. A parte questa scrittura. Però, il claim finale è un mondo buono. Tu guardi quella pubblicità e dici ma un mondo buono di cosa? Che è tutto finto. Non ci credi più. Non ci credi più. Perché è una pubblicità degli anni Ottanta ributtata cercando di sfruttare un effetto nostalgia che non funziona. Ora vi faccio vedere Coca-Cola che vuole dimostrare che il mondo è buono e lo fa così. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco qua diventa credibile perché te lo fa vedere. Poi è, come tutte le cose, è sempre una finzione anche nella realtà. Però è uno spot che funziona perché è molto attuale perché questo gioco creativo di utilizzare le telecamere di sicurezza che servono per vedere i cattivi e invece fanno vedere la parte buona del mondo e poi tutto questo mondo diventa la bottiglia Coca-Cola. Ecco, diventa un bel modo di comunicare molto attuale per fare branding e per impossessarsi ancora una volta del concetto di felicità. Perché poi alla fine, come dico, le persone vogliono vedere quello che succede veramente. Ecco, questo è fiducia e customer first. Grazie. Grazie.